Harry e Meghan Markle, la regina riceve una bellissima sorpresa per il suo compleanno. Spunta la verità dopo le polemiche Sono diverse le polemiche nate in queste ore sul principe Harry e Meghan Markle per quanto riguarda il compleanno della regina Sul web e sui social non sono spuntati fuori gli auguri ufficiali da parte della coppia, che ora vive a Los Angeles Per tale motivo, molti hanno pensato che i due non avessero avuto il pensiero di riservare alla regina gli auguri Ma ecco che a placare gli animi ci pensa Omid Scobie, il reporter reale, su Twitter Attraverso un post, il giornalista fa sapere a tutto il mondo che Harry e Meghan hanno in realtà pensato a una bella sorpresa per la nonna Elisabetta Yee festeggia oggi il 94esimo compleanno durante questa fase drammatica che sta vivendo in questo periodo tutto il mondo e, a distanza, i duchi di Sussex hanno scelto di darle tutto il loro affetto, attraverso una videochiamata Una sorpresa virtuale, dunque, quella che Meghan e Harry le riservano per il giorno del suo compleanno E c'è un motivo per cui la coppia non ha riuscito a fare questo regalo alla regina prima Harry, Meghan e Archie in videochiamata con la regina per il suo 94esimo compleanno Secondo quanto dichiara Scobie, Meghan e Harry hanno contattato la regina, il giorno del suo compleanno, con una videochiamata La coppia, ovviamente, non poteva non fare un'altra sorpresa a Elisabetta Yee, il collegamento è avvenuto con la presenza del piccolo Archie In questo modo, la regina ha avuto l'opportunità di rivedere il piccolo, dopo tanto tempo Le polemiche hanno fatto il giro del web, ma vi spieghiamo il motivo per cui gli auguri da parte dei duchi di Sussex sono arrivati dopo diverse ore Sappiamo bene che il Sussex è otto ore indietro rispetto a Los Angeles a causa della differenza di fuso orario tra l'America e il Regno Unito La regina oggi fa il compleanno Harry, Meghan, William e Kate rendono speciale questo giorno Il principe Harry e Meghan non si sono assolutamente dimenticati del giorno del compleanno della regina A rendere omaggio, pubblicamente, a sua maestà oggi ci hanno pensato ovviamente William, Kate e il principe Carlo Ora a questa lista si aggiungono anche i duchi di Sussex, duramente accusati in queste ore di essersi dimenticati di un giorno così importante Meghan e Harry hanno sostenuto la regina anche nei giorni passati, quando fece un importante discorso pubblico per dare affetto alla popolazione in questo difficile momento Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie per la visione!